Nell'ultimo consiglio comunale è stato approvato l'ingresso del comune di Salisano nell'Unione di Comuni della Bassa Sabina. Il vice prefetto dottoressa Gallone, commissario prefettizio del comune di Salisano, non ha revocato la delibera d'ingresso approvata dall'amministrazione Neri presso la suddetta Unione. Il commissario quindi siederà tra i banchi del Consiglio e della Giunta in attesa della nomina di nuovi organi istituzionali. Il presidente Franco Gilardi, soddisfatto di questo nuovo ingresso, annuncia che ci sono anche altri comuni limitrofi che strizzano l'occhio per l'entrata nella più grande unione della provincia di Rieti, già formata dai comuni di Cantalupo, Forano, Montopoli, Sabina, Poggio, Mirteto, Stimiliano e Tarano. Nuovi ingressi anche nel sistema bibliotecario della Bassa Sabina, tra i quali il comune di Selci.